Buongiorno a tutti ragazzi, oggi volevo farvi vedere una recensione di Battlefield 3, io attualmente sto giocando con l'Xbox e ancora non l'ho finito il gioco, comunque per me Battlefield è un gioco come tutti gli altri, però reputo con gli altri molto meglio, perché intanto con questo qui ci sono tre livelli di difficoltà, facile, normale e difficile, già a livello facile possono accoltellare quelli contro, possono accoltellare, è già una cosa molto difficile. Ecco, come ho detto prima, ancora non l'ho finito tutto il gioco, comunque lo sto finendo, gli ultimi livelli sono, cioè io lo sto facendo il gioco a livello facile, poi Battlefield 2 io l'avevo finito tutto a livello difficile, c'erano stato tantissimo tempo perché mi ammazzavano sempre. Comunque, per me questo gioco è come tutti gli altri, però, ah e c'è una cosa in più che in Battlefield 2 non c'era, che uno si può accovacciare come Call of Duty in tre modi, uno alzato, uno intermedio e l'altro, cioè medio, e l'altro proprio accovacciato per terra, che si può camminare per terra. C'è questo gioco, perciò, che è bello, a sparare, cioè l'unica cosa che è infacile, è che è proprio un po' difficile, perché basta che ti sparano qualche dieci colpi e si muore, e poi se stai vicino a uno, quello ti accoltella, non è una cosa da un livello facile, dovrebbero mettere dei livelli, dovrebbero mettere in normale l'accoltellamento dei nemici. Se volete vi faccio vedere com'è l'accovacciamento, aspettate.